Una grandissima occasione per il circolo, per il territorio e per il golf perché soprattutto adesso che piano piano si sta cercando di diffondere sempre più un evento internazionale diciamo aiuta in questo senso quindi siamo molto contenti e non vediamo l'ora che arrivi luglio Quanti concorrenti vi aspettate? Ce ne aspettiamo parecchi, adesso sentivo l'organizzatore che sta andando abbastanza bene già le iscrizioni quindi speriamo di fare il pieno, quindi di raggiungere magari anche 120-130 giocatori insomma più possibile